vado veloce vado veloce se no non arriviamo forniture di energia elettrica ricordiamoci che fino a 6 kilowatt ci danno la fornitura come in monofase cioè ce la possono andare anche in trifase ma tendenzialmente in monofase può arrivare fino a 10 kilowatt da 10 anzi diciamo così tendenzialmente oltre 6 sicuramente oltre 10 fino a 30 kilowatt più 10 per cento quindi 33 kilowatt fornitura è in trifase da 30 kilowatt più 10 per cento quindi 33 a 100 è una fornitura in trifase sempre in bassa tensione dai 100 ai 200 potrebbe essere in bassa o in media tensione sopra i 200 tendenzialmente in media anche se abbiamo dei clienti che hanno forniture da 225 kilowatt in bassa però una roba abbastanza particolare ecco è stato specificato che la cabina di trasformazione che può essere richiesta all'utente allora faccio un passo indietro noi chiediamo una fornitura da 30 kilowatt ce la danno come in bassa però per qualche motivo l'enel lì non ha la disponibilità deve creare una cabina chi lo paga sto manufatto il cliente lo deve pagare il cliente ok tutta la roba che ci va dentro la cabina no la paga il distributore ma il manufatto la servitù di passaggio tutte queste robe qui sono a carico del cliente quindi per evitare di rischiare di non avere energia elettrica bisogna che spiegate al cliente che quando va a richiedere questi manufatti che sono quelli imposti dal distributore li deve pagare lui come quando andiamo a cena con una bella ragazza gli dobbiamo pagare la cena perché vogliamo che ce la dia il distributore ci dia l'energia elettrica quindi dobbiamo pagare abbia sta sfida noi maschi il cavo di collegamento deve essere protetto alle del contatore di scambio quindi quello che abbiamo subito sulla strada possiamo non mettere la protezione magnesia termica da marzo di quest'anno non si può più bisogna mettercela e a meno che non siamo nei tre metri no solite robe che sappiamo